buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono Cristian e si è su Crypto Itac oggi daremo uno sguardo al bitcoin sul time frame orario giornaliero daremo un attimo uno sguardo al dominance di USDT che può darci sempre degli ottimi spunti per quanto riguarda il bitcoin e poi XRP che ha fatto un candelone pazzesco e nella giornata odierna ha fatto veramente dei numeri strepitosi guardate qui sull'orario che numeri abbiamo fatto siamo già di nuovo quasi a contatto con la 200 settimane e a breve vedremo come potrà proseguire questa fase rialzista e che cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane da parte di XRP iniziamo subito per quanto riguarda il bitcoin in questo momento ci troviamo a 28.133 dollari nella giornata di oggi abbiamo guadagnato lo 0,65% nell'ultimo mese abbiamo guadagnato il 14,73% e dall'inizio dell'anno il 67,54 indice paura avidità ci troviamo in zona 68 su 100 stiamo iniziando ad andare sulle zone calde per quanto riguarda l'avidità e potrebbe già iniziare a diventare un po' più rischiosa la situazione quindi mi raccomando massima allerta anche perché spoiler a breve vedremo un potenziale rising wedge già rotto al ribasso con un bearish r test in questo momento attenzione mi raccomando perché è possibile anche un ritracciamento da parte del bitcoin sia per far scendere questo indice sia per far scendere l'RSI che è ancora sull'iper comprato allora questo era il grafico che avevamo lasciato ieri stiamo vedendo appunto che il bitcoin sta avanzando all'interno di questo canale rialzista blu e sta seguendo questa trend line rossa che ha perso per un attimo poi ci è rientrato dentro cosa però voglio farvi notare sempre time frame orario per quanto riguarda il bitcoin da notare che dai minimi fatti a 23.927 abbiamo un potenziale rising wedge in formazione dove i massimi sono questi che sono andati a contatto per tre volte e i minimi sono questi con questa trend line che è stata toccata più volte in questa parte qui è stata persa infatti c'è stato anche un aumento dei volumi dopodiché c'è stato il retest un bearish retest a questo punto abbiamo provato a rimettere la testa dentro non ce l'abbiamo fatta quindi abbiamo di nuovo perso abbiamo riprovato con un secondo tentativo e anche in questo caso siamo stati respinti quindi massima allerta qualora dovessimo vedere il prezzo iniziare a scendere e ritracciare verrebbe confermata questa rising wedge e come target avremo nuovamente i 24.300 dollari quindi massima attenzione perché potremmo avere un andamento del genere per poter far scaricare l'RSI ritornare a contatto anche con la 200 settimane che si trova poco sopra e poi provare di nuovo a ripartire per questa fase rialzista qualora invece dovessimo proseguire in questa fase e rompere al rialzo allora verrebbe invalidata questa rising wedge però non mi sembra proprio questo il caso un'altra cosa guardiamo la dominance di USDT che aveva fatto un fake out per quanto riguarda questa rottura di questo triangolo che in teoria dovrebbe essere di prosecuzione quindi dovrebbe rompere verso il basso una volta fatta questa rottura stava partendo dopodiché il missile è stato colpito e da lì siamo scesi giù e siamo andati di nuovo all'interno del triangolo ora stiamo lateralizzando all'interno perché c'è moltissima indecisione da parte del mercato che non ha ancora ben chiaro se vuole iniziare il ritracciamento per quanto riguarda le criptovalute o se vuole far proseguire questa fase rialzista quindi occhi ben puntati su questo triangolo tracciatelo anche voi tramite queste linee di contatto quindi di queste ore qui in modo tale che potete essere al corrente immediatamente se viene rotto nuovamente con volume e in quel caso poi proseguirà questa fase e quindi farà ritracciare il bitcoin o se romperemo verso il basso e in quel caso sarebbe possibile una continuazione di questa fase rialzista ma ora spostiamoci su XRP sarei voluto essere molto più celere nell'avvisarvi perché già con la candela questa qui che aveva rotto la 200 giorni io già mi aspettavo un target della 200 settimane perché se la stava proprio chiamando come se fosse una calamita ovviamente i miei comunque non sono consigli finanziari né di trading ma sono soltanto le mie opinioni mi raccomando prima di investire fatelo con la vostra testa io quello che posso fare è farvi notare eventuali pattern che sono informazioni allora cosa possiamo vedere sull'orario innanzitutto aumento di volumi con costanza per quanto riguarda la rottura della 200 giorni noi eravamo rimasti e io mi avevo fatto il video dell'altro ieri che per la prima volta avevamo chiuso una candela settimanale al di sopra di questa trendline ribassista che ci portiamo indietro da aprile del 2021 questa trendline è stata rotta finalmente con la candela della settimana scorsa vedete che abbiamo messo la testa fuori e da lì in questa settimana siamo partiti alla grande quindi con una candela pazzesca che ancora siamo a martedì quindi immaginiamoci che cosa può succedere nei giorni successivi che è andata che è andata dritta dritta a contatto della 200 settimane ora cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni io mi aspetto visto che c'è stata questa rottura e che io ve ne ho parlato da tantissimo tempo che una volta rotto a mio avviso questa trendline discendente è superata la 200 settimane il mio target sarebbe stato questa trendline blu del triangolo che farà da fortissima resistenza quindi potremmo vedere un touch da parte del prezzo di XRP in questa fase per poi magari ritracciare e andare a lateralizzare sino al prossimo bull market che io mi auguro che poi spari a missile a cannone verso l'alto vediamo come si comporterà innanzitutto è buonissima questa cosa che abbiamo rotto a rialzo ora vediamo questa resistenza della 200 settimane quanto sarà forte o se riusciremo già in pochi giorni a superarla e a proseguire questa fase rialzista il gigante si è svegliato il gigante XRP vediamo se adesso inizierà a correre e a riprendere tutte le altre criptovalute che hanno performato nettamente meglio di lui nelle scorse settimane quindi ha tutto un bel margine di recupero certo è che abbiamo già fatto un bel 30% con una sola candela giornaliera quindi direi che siamo sulla buona strada ma comunque XRP ci ha sempre abituati a fare delle candele così infatti il suo grafico sembra quasi un elettrocardiogramma come possiamo vedere dai candeloni settimanali che fa sia bullish ma anche quelli bearish come si è comportato nelle volte precedenti quando siamo andati a contatto della 200 settimane allora lo possiamo vedere qui allora la 200 settimane ha fatto sempre da fortissima resistenza guardate qui ha fatto da forte resistenza guardate qui dopo una bella fase rialzista forte resistenza ha fatto più resistenza la 200 settimane della 200 giorni che questa viola anche qui ha fatto da resistenza qui abbiamo provato a sfondarla ma poi siamo rimasti di nuovo intrappolati dentro qui una volta che l'abbiamo avuta come supporto abbiamo avuto il nostro bellissimo bumpo finale per quanto riguarda il nostro bull market del 2021 possiamo dire che è un'ottima resistenza quindi occhi ben puntati perché potremmo anche ritracciare nuovamente in questa fase per poi proseguire questa fase rialzista nei prossimi giorni per quanto riguarda invece xrp contro bitcoin con la candela settimanale attuale abbiamo già mangiato completamente la candela bearish della settimana scorsa quindi ora ci stiamo dirigendo verso questa linea diagonale di resistenza a questo punto vediamo se riusciamo a romperla e ad andare a target della 200 giorni che si trova attualmente a 0.00002036 quindi abbiamo un margine di salita sino a quel target del 17% contro il bitcoin vediamo come si comporterà ma è veramente veramente partito a cannone siamo quasi a contatto eccolo qui quasi a contatto della 200 settimane manca veramente pochissimo ricordiamo comunque che xrp dal suo top si trova a meno 85,95% rispetto a bitcoin che si trova a meno 59 ed ethereum che si trova a meno 63 l'ultima cosa che volevo farvi vedere per quanto riguarda l'euro contro il dollaro da quando io vi ho avvisati che avevamo toccato questo supporto abbiamo fatto 4 candelle giornaliere consecutive verdi e abbiamo superato i massimi precedenti quindi questa nuova fase rialzista sta continuando come io mi aspettavo e come vi avevo fatto presente io credo che con questo supporto che è molto forte potremmo andare a ritestare di nuovo la mediana di questo canale rialzista per quanto riguarda l'euro e vediamo se poi nelle prossime settimane ritorneremo a contatto finalmente della 200 settimane che non stiamo toccando da febbraio del 2022 benissimo in questo video è tutto se vi è piaciuto mi raccomando un bel like di supporto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto lasciatemi un bel commento che mi fa sempre piacere scrivete quello che volete tutte le vostre opinioni le vostre idee a me fa piacere grazie mille per tutti i complimenti che mi avete fatto per chat e per messaggi una buona serata e ci vediamo domani ciao ciao